Musica 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 E se mi permettete come capestranese vorrei fare un ringraziamento particolare a Viaggio Mertione Applausi E' così Applausi Musica 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 nasce in piena piazza e nel cuore un turno che riva sulla voce ogni volta, ogni volta In don di la radazione, no vanna no vè No vanna no vè, no vanna no vè Ding dong dong dong, ding dong dong No vanna no vè piacce o le che si Cure novantanove le cannelle, quando riunie il cuore un corpe serenze, che le guarda le guacci, tutte belle, tutte belle, che dove la città sono? Cure novantanove le cannelle, cure novantanove le cannelle, con un conto di novantan. Cure novantanove le cannelle, che si ammora, e l'aquila, il uccemo, confinesce in me, che si ammora, il uccemo, confinesce in me, che si ammora, il uccemo, confinesce in me. Cure novantanove le cannelle, che si ammora, il uccemo, confinesce in me. Cure novantanove le cannelle, che si ammora, il uccemo, confinesce in me. Il coro di Cavestrano è diretto dal maestro Paolo Di Benedetto. Alle disarmoniche Massimiliano e Virgilio. E lì sotto c'è anche il signor Hermando, che è addetto al suono, all'inizio. Grazie. 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 alla ricerca dei più bei brani delle vostre regioni e naturalmente è un brano che dedichiamo a tutti voi con ancora arrivederci a Capestano. Vittoria, 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 teniamo siccina, se venga da Capestano, tuve la Vittoria, l'immagrazione. Chiesia di Roma, figli di Orà, a te. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.